Dovrebbe essere partita la registrazione, sì, eccoci, allora buongiorno Carlo, oggi è venerdì 12 marzo del 2021, siamo di nuovo qua in una, credo la terza fase del lockdown, per cui siamo costretti di nuovo a riprendere le nostre interviste con gli esperti in online per il canale Fed the Virus, ma diciamo che per noi adesso è anche un privilegio il fatto di poter raggiungere persone in giro per l'Italia o in giro per il mondo. Allora, Carlo Giacobini, io faccio soltanto una breve introduzione e poi lascio a te la presentazione, anche perché è un ruolo che penso sia fatto di mille sfaccettature, quindi ci racconterai tu qual è la tua definizione giusta. Il fatto da aula è che ci diamo del tu, non mi sembra che sia un grande problema, e che ognuno è consapevole del proprio ruolo. Io da quest'altra parte, al di là appunto del ruolo della fondazione Fed Stroke, faccio un po' il ruolo del genitore tipo, quindi tu immaginati un genitore che è un caregiver in generale, che da un momento all'altro si è ritrovato a vivere la disabilità tutti i giorni e quindi comincia un po' questa fase di mappatura della burocrazia, delle norme che possano agevolarlo o bloccarlo da un certo punto di vista. Però, Carlo, iniziamo con te. Carlo Giacobini, qual è il tuo titolo? Di che cosa ti occupi? E soprattutto come sei finito in questo mondo qui della disabilità? Le definizioni sono, intanto ringrazio sicuramente dell'invito, è un piacere fare una chiacchierata, durante questa che tu hai chiamato terza fase, a me piace aggiungere e ultima, e ultima, speriamo davvero per tutti quanti, perché ha segnato drammaticamente molte vite umane, molte famiglie, l'economia, eccetera, inutile stare a ripensarci. Qualcuno dice che ha lasciato anche qualcosa di positivo? Sì, forse, e forse sta proprio anche nell'uso di questi strumenti che ci hanno costretto a usare il contesto, il fenomeno, e ci ha dato la possibilità di spingersi oltre. Ci sono, guardate, ci sono anche cose positive che segneranno, che avranno degli impatti successivi, il fatto che ci siano, ad esempio, ci siano stati e ci siano ancora, in questa fase di pandemica e di protezione, la scoperta da parte di gruppi, anche del tutto informali, anche di genitori molto spesso, che si ritrovano, hanno scoperto Zoom e quindi si ritrovano agli orari più improbabili, con bambini che zompano da una parte all'altra della stanza, inframezzati dai problemi digestivi del figlio a problemi di sistema del piano nazionale rinascita e resilienza, eccetera. Quindi ha restituito una vivacità e una riscoperta all'automutuo aiuto attraverso questi strumenti virtuali, che poi è difficile definire virtuali perché ci stiamo parlando, stiamo ripenuti in alcuni momenti, e secondo me è stata una cosa che segnerà anche fatalmente le modalità di partecipazione e di rappresentanza. La sfida qual è, e qua mi fermo perché sto vagheggiando ipotesi, magari saranno smentite, la sfida qual è? È tentare di non unire, ma ricondurre a un qualcosa di comune, trovare qualcosa di comune tra questi centinaia di gruppi che sono nati, che hanno tutta la loro legittimità solo per il fatto, anche solo per il fatto di essere nati, perché se sono nati vuol dire che c'era un bisogno dietro, una necessità, una voglia, un'intenzione, sia esso di natura psicologica, sia esso di natura pratica sostanziale, è prevalentemente questo, ma sono nati. Quindi io credo che cambierà molto anche spirito critico da parte di molte piccole, continuiamo a chiamarle piccole per liquidare, organizzazioni, gruppi informali, cambieranno probabilmente lo spirito e anche la voglia di collaborare perché è molto più facile farlo. Dall'altra parte abbiamo avuto una strage a generazione di Zoom, di webinar, di sacramenti, che era difficile. È una fatica, no? Un affaticamento. Sul PEI ce ne saranno stati, ce ne erano tre al giorno. Parliamo, parliamo. Oggi parleremo anche un po' di questo PEI. Perché sono le definizioni mie. Io ho difficoltà a definirmi, ho fatto molte cose in vita mia, da logistica organizzativa, che mi è sempre piaciuta, a lobby politica, di quella buona, di quella sana. La cosa che preferisco usare in questo momento, ma magari fra sei mesi ti dirò che preferisco fare lo chef, cosa non improbabile, è quella di giornalista e divulgatore. Io l'ho scritto, è una frase che uso molto spesso. Io odio, la trovo profondamente antidemocratica, quella frase che ha una sua logica, che nasce con una sua logica, che dice che la legge non permette ignoranza. Ecco, io la trovo, lo so perché è nata, lo so che cos'è, lo so perché è antielusiva, ma è una cosa che detesto. E quindi, se rivedo cose che scrivevo vent'anni fa, venticinque anni fa, di sintesi, eccetera, molto tecniche per non essere contestato da quel tizio o da quell'altro, attento che è usato, è cambiato radicalmente anche il mio modo di scrivere rispetto a questo pensare. E quindi io devo decodificare quando qualcuno mi chiede un'informazione e tentare di adeguare il mio linguaggio a chi probabilmente ho davanti. È una cosa che si affina col tempo, ma è lo spirito che c'è dietro, che secondo me è molto più importante. E ce n'è un bisogno dannato, anche perché il web, e questo io approfitto, perché approfitto ogni volta per dirlo, il web trasuda di porcheria. Trasuda di siti clickbaiting, tra i fatti con titoli ad arte per attirare il click. E sono bravissimi perché sono i primi che escono, i primi che vengono raccolti, i primi che provocano disorientamento o fraintendimento delle persone che leggono quella cosa. Parliamo di questo, Carlo. Parliamo del tuo ruolo sul web. Tu hai una storia molto lunga di gestione anche di community online in cui avete cercato nel tempo sempre di sfatare le cattive notizie, la cattiva informazione, dare risposte di fronte a dei bisogni e anche cercare di combattere l'ignoranza della legge, ma l'ignoranza intesa come non conoscenza di norme specifiche. Dicci un po' nel tempo, che cosa hai creato nel tempo. La mia storia nasce molto da lontano, mi limito a questa parte, ci sono delle parti precedenti in cui ho svolto un'attività di educatore con un periodo bellissimo della mia vita di educatore con ragazzini, ragazzini proprio, non ragazzini adulti, non riconosciuti come adulti, ma ragazzini, 20 anni, 21 anni, con disabilità intellettiva medio, gravi. Quello è il primo contatto con il mondo della disabilità, da educatore? Sì, sostanzialmente sì, diretto sì, di operatore sì. Se dovessi andare ancora più indietro, ricordo un inserimento forzato da parte di un grande della pedagogia che si è trasferito in India, che ha creato tutta una sua modalità di didattica, che è il progetto Alice, lo trovate, ci sono esperienze anche in Italia, di insegnamento ai ragazzini, un metodo che ha ricevuto moltissimi riconoscimenti dall'estero, ha avuto la fortuna o la sfortuna di essere il mio maestro o io di essere il suo maestro elementare, eravamo pre, eravamo ancora alle classi differenziali, lui portò a chiese con un'autorizzazione particolare al provveditore a quel tempo e inserì all'interno della nostra classe una ragazzina con una grave disabilità intellettiva. Poi noi ce la trovavamo in classe, mentre tutti gli altri erano in classi differenziali. Lui la pretese questa cosa e la seguì per tre anni, gli ultimi tre anni, delle scuole elementari allora, adesso non esistono più le scuole elementari, sono le scuole di primo grado, io faccio ancora confusione. Quindi i primi contatti erano quelli, glielo dico ancora adesso, che ha 70 anni, ancora a zira il mondo, eccetera, Valentino Giacoméin, ricordati che tu hai fatto questa cosa, tra l'altro io ricostruendo la posteriore gli chiedi, ma com'è il fatto che non c'era ancora la norma che imponeva? E dice adesso pretendi troppo, io so che ci sono riuscito, ricordo una lunghissima discussione, alcune minime resistenze iniziali da un parte di un genitore, gli altri in una scuola di campagna, eccetera, non si sono mai posti problemi, la bambina è cresciuta con noi, poi ha seguito il suo percorso, la vedo ancora ora. Quindi vale la pena provarci comunque ogni tanto, no? Era una cosa molto antica, questa è stata il contatto, dopodiché ha iniziato a fare per altre cose, mentre molto giovane a svolgere l'attività di educatore in un progetto sperimentale appunto con questi ragazzi con disabilità intellettiva, relazionale, ma abbastanza significativa in contesto, e cioè centro storico a Venezia, è ancora molto moderna la cosa, secondo me molto pratica, tant'è che la infilo ancora in qualche progettazione, ragazzini in contesto, quindi in contesto Venezia è fatta anche di molte aree popolari, molto popolari, a quegli anni ancora di più, e quindi c'era il fabbro, c'era il palegname, c'era l'artigiano, e tutti questi artigiani avevano il garzone di bottega, che svolgeva prima il garzone di bottega, e poi diventava apprendista, e poi faceva il suo percorso, oppure cambiava lavoro. L'idea era, inseriamoli direttamente all'interno della bottega, che è all'interno di un territorio, non è a 20 chilometri che prendi il pulmino e il vaporetto vai alla mattina alle 7, torni alla sera e sei scollegato dal territorio, è all'interno del sestriere veneziano, popolare, e quindi non è fatto di bottega, ma è fatto di osteria, è fatto di vari gruppi giochi, sei nel contesto, è questa la sfida anche attuale, di generare delle unità, dei gruppi educativi territoriali, in Italia qualcuno l'ha fatto, in cui i ragazzini non siano dentro una semiresidenza, ma siano dentro un contesto che è legato al territorio, che vadano a dare una mano, preferisco che vadano a dare una mano al gruppo degli alpini che sta organizzando la sagra del quartiere, o che vadano in parrocchia, non per motivo religioso, ma perché sì, perché parrocchia c'è sempre l'attività da fare, non solo pulire i cristi, ci sono da rimettere a posto le aree attorno, insomma ce ne sono attività nei territori, se ricaliamo nei territori creano una relazione col territorio e riconoscono, è il luogo dove vivi che crea un'identità, che rafforza un'identità, che ti permette di crescere, che ti permette anche di fare alcuni progettini di autonomia, perché sei in un'area protetta, questi ragazzi arrivavano prima accompagnati dai genitori nel punto di ritrovo, che ricordo era il campo del ghetto a Venezia, direzione a Canareggio, e dopo andavano, si distribuivano nelle botteghe, e poi pian piano arrivavano a piedi, arrivavano a piedi cambiando il vaporetto, prendendo il traghetto per attraversare il canale, quindi tutte le loro attività, ma soprattutto la gente riconosceva, non poteva succedere nulla di particolare, di complessivo, ma comunque sono percorsi, e qui mettiamo già elementi di cui stiamo parlando, di transizione alla vita adulta, io devo iniziare da piccolo, da giovane, a iniziare a fargli fare delle cose, che non sono andare a sci, andare a patinare con la madre tutte le settimane, no, si può anche fare, è molto divertente, ma quei pezzetti di, veramente di transizione, che costruiscono l'autonomia, su cui possono partecipare, in molti può partecipare, potrebbe partecipare un pezzetto alla scuola, potrebbero partecipare le associazioni del territorio, che in questo modo si riqualificano, organizzazioni, sto parlando di associazioni disabili, sto parlando di, gente che si occupa di teatro, di ballo, di organizzazione, la prorocco, queste cose qui, che le fai perché ti piacciono, le fai per un po', le segui per un po', poi ti distacchi, poi trovi qualcos'altro, no, questi pezzi qua, vi transizionano la vita adulta, vero, inutile piangere col velo, sul dopo di noi, dobbiamo iniziare, a fare queste cose qua, cominciamo dall'inizio, allora, ipotesi di una famiglia, nello specifico una mamma, e questo è un caso tipico nelle nostre famiglie, perché noi ci occupiamo di paralisi cerebrale infantile, quindi presumibilmente è un danno alla nascita o in età molto precoce, ti ritrovi in questo grande calderone di emozioni, dove sicuramente la parte sanitaria la fa da padrona, perché comunque devi gestire una serie di problematiche che occupano la tua vita, la tua giornata, però dall'altra parte è anche necessità di capire quali potranno essere nel futuro prossimo o molto più lontano le necessità anche dal punto di vista di assistenza, diritti o agevolazioni. Quindi un genitore che si trova di fronte a questo, magari conviene dividerlo anche nelle varie fasi, ci sono dei bisogni tipici dell'età prescolare, dell'età scolare, poi c'è la maggior età dove non si capisce dove si va a finire, quindi l'autonomia e il lavoro fino al dopo di noi, l'hai accennato anche tu. Sì, tra l'altro, qui è proprio una delle chiavi molto diverse di chi si avvicina per chiedere un'informazione, il comprendere sei, come dire, usiamo questa parola qua che è neofita o sei una persona che è un consolidato storico, cioè è molto diverso che mi arrivi il genitore di un ragazzo per la prima, che ha un, il genitore di un ragazzo con una distrofia muscolare di 20 anni, e altro è un, cioè ha già 14 anni, siamo tutti neofiti, siamo tutti neofiti, quindi giorno 1 hai avuto la diagnosi e non sai che cosa fare, tutti ti dicono ma la legge 104 è permesso per l'auto, tu dici ma che sono queste sigle? Infatti neofiti, vuoi per un po' di finezza, vuoi perché c'è consolidato, vuoi perché c'è un'autodichiarazione, immediata da parte di chi si avvicina, il neofita ha delle, no, non voglio fare similitudini, con altre situazioni che avvengono in età più, traumi che avvengono in età molto più avanzate, ma ha questo, di fronte, una situazione proprio di necessità di informazione e di orientamento, quindi è possibilmente tabula rasa, ma non è mai tabula rasa in termini di informazioni, diritti, opportunità, cose che bisogna fare subito, dall'altra parte e questo lo sai molto meglio tu di me, c'è ancora il grosso peso della elaborazione della diagnosi, elaborazione del lutto, si chiama in psicologia, di elaborazione della diagnosi, di prefigurare uno scenario futuro, cioè tu hai l'immediato e pensi che l'immediato prima o poi termini o si modifichi, è vero che si modifica, per il meglio, qualche volta, però ha necessità comunque di azione, ma sai, la tua, non vorrei appare io questa ora, ma la lucidità, non è così forte all'inizio, perché, perché stai pensando a sì, cioè, ai punti interrogativi dici, ma che succederà, non so, durante il momento, poi elaboro la diagnosi, ma la diagnosi è fatta bene, provo quell'altro neuropsichiatra, era una lezione, era realmente una lezione perinatale, prenatale, oppure era dell'altro, perché ci sono anche quelle difficoltà, non voglio entrare in termini medici, questo contesto così nebuloso, dici, questo contesto, questo contesto, così nebuloso, così complesso, in termini esistenziali e psicologici, non sempre hai la chiarezza di fare una previsione di lungo termine su quelle che sono le politiche sociali, sanitarie, strumenti di protezione, tutela, eccetera, e io lo capisco, quindi, molto spesso le indicazioni che diamo, che diamo, che do, che tentiamo di dare, sono minimali, cioè, preferisco non seppellirti subito di come si ottiene a sei anni un sussidio tecnico informatico, me ne ferisco, attenzione, perché la cosa peggiore e qualche volta anche usata ad arte è seppellire di roba, di materiale le persone, cioè, io ho visto negli anni 90 dire, c'è una persona che non si sa vita, ah, abbiamo fatto una bella pubblicazione, e cos'era? Allora, la copia della legge è 104, 44 articoli, di cui uno esce, ciocco alla fine, biaco. Uno come me lo appoggia lì e dice, in questa fase non ne voglio sentire parlare, non voglio leggermi, io ti dovessi dire, tutto quello che c'è da sapere sui permessi lavorativi, dammi, dammi il materiale, beh, in questo momento sui permessi lavorativi 104, stimate alla buona, dopo un certo punto ho perso il conto, tra messaggi INPS, messaggi, dipartimento funzione pubblica, circolari interpelli del ministero del lavoro, quindi atti amministrativi, non le forze di legge, solo di queste che regole, veramente, siamo attorno dal 92 in poi ai 150 atti, più le sentenze, più le modifiche legislative, più alto, quindi davvero, più tutte le interpretazioni di ARAN, che è l'agenzia che fa le valutazioni sui contratti collettivi nazionali, più tutte quelle, quindi c'è da uscire pazzo per, anche per, 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 per chi le maneggia tutte dal 92 in poi, quindi dobbiamo andare sul caso concreto e rispondere al caso concreto, non, non esiste paradossalmente un caso tipico, ma va, quindi solitamente quando c'è questa situazione nasce un bambino con una grave disabilità, allora, la prima indicazione da dare, ti aggiungo un pezzetto in più, che non è una disabilità di tipo progressivo, degenerativo, considera che poi a un certo punto è come se diventasse una malattia cronica, per cui continui ad avere dei bisogni, anche da, attenzione però perché da un punto di vista medico legale, poi io arrivo perché arriviamo sui termini della revisione piuttosto che non revisione, rivedibilità, eccetera, attenzione perché da un punto di vista medico legale eh, mi, devo considerare anche come è l'evoluzione individuale a prescindere dalla malattia, cioè esatto, esatto, voglio dire un impedimento un impedimento facciamo molto banale terra a terra, un impedimento alla deambulazione a un anno nessuno capirà un anno e quindi si conta poco un abunzione ok, quindi c'è anche c'è anche quello quindi ci sta che nel tempo quindi la prima l'evoluzione connaturabile noi abbiamo bisogno di quello che si chiama uno status uno status cioè che venga riconosciuta una condizione particolare che innesca determinati determinate esevolazioni prima quindi tradotto va chiesto a il prima possibile poi ci chiediamo su cosa vuol dire il prima possibile l'accertamento di invalidità e di handicap in Italia per una serie di motivi su cui faremo altri 5 video perché ci sono due percorsi bisogna farli tutti e due due modalità di accertamento una medico legale invalidità civile una handicap diciamo medico sociale si chiama ancora handicap perché l'abbiamo fatto nel 92 non abbiamo ancora cambiato nonostante alcune nonostante rane dalla bocca larga continuano a ricordarci che ecco in Italia la convenzione ONU del 2009 non abbiamo ancora cambiato nel termine nella definizione quindi lo status sia l'handicap che l'invalidità alla grossa quindi è fuori dall'ospedale con la mia foglia della diagnosi e per riconoscimento di questo status dove vado da queste due entità allora io sono in ospedale esco dall'ospedale ho una diagnosi subito tu mi insegni che questa diagnosi potrebbe essere rivista nel tempo assolutamente sì essendo una diagnosi in età perinatale si porta dietro e per fortuna che si riporta dietro tutte le varie evoluzioni di un cervello che cresce di un corpo che cresce di un individuo che segue le tappe evolutive tu hai una valutazione specialistica hai una valutazione specialistica perché è una valutazione specialistica è in ospedale è una valutazione specialistica è importante avere una valutazione specialistica fatta bene magari con il ricorso ad alcuni test ad alcuni indicatori che solitamente fa un non solo un neonatologo anzi non tanto un neonatologo ma quanto direi un neurologo un neuropsichiatra un neuropsichiatra infantile nel nostro caso la figura io ho questa relazione e questa quindi ho la prova devo innescare il riconoscimento di status conviene farlo sia di indennità di invalidità civile che di handicap di tutti e due per arrivare a dire mio figlio in quelle condizioni quindi dopo vediamo il quindi con questo certificato questo è la base documentale che userà poi la commissione per fare per fare le sue valutazioni medico legali a nivelità civile medico sociali tra virgolette endica cioè la necessità di assistenza quindi è importante vado dal pediatra di libera scelta stiamo parlando di bambini quindi non dal medico di medicina generale i bambini hanno fino a non mi ricordo quanti anni 16 mi pare 15 14 forse adesso poi è variabile uno può decidere se rimanere oppure andare dal medico però i nostri sicuramente vanno dal pediatra la cosa che mi ricordo io quindi tanti anni fa è il pediatra ti dice ma io non ho questo sistema quindi ci sono delle categorie di pediatra che sono abilitati e altri no 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 allora in Italia abbiamo mi pare 14.000 pediatri da quanto mi dice IMS almeno 12 o 13.000 cioè è davvero residuale in questo momento hanno il pin il pin per entrare nel sistema IMS perché perché è un pin che serve anche ad altre procedure non solo a questa è vero che i pediatri di libera scelta difficilmente fanno ad esempio il certificato di malattia da lavoro però il genere ce l'hanno attenzione voi andate al pediatri di libera scelta per farvi questo certificato introduttivo quindi è necessario che il pediatri di libera scelta accenda il computer si metta davanti al computer entri nel sistema di IMS ci vuole un minuto se non ce l'ha già acceso digiti codice fiscale del bambino digiti tre righe di diagnosi tre righe di diagnosi dia il numero di testa sanitaria che ce l'ha il bambino e indichi la richiesta metta due flag due flag sulla sulla sull'imvalidità civile e handicap non occorre per adesso che chieda la legge 68 e c'è tempo no questo è il certificato introduttivo che è la cosa più importante attenzione è un'attività libero professionale una delle vergogni italiane va remunerata quindi va remunerata è una delle vergogne vergogne sono anni che lo dico ho scritto a 4 mesi è un certificato a pagamento come se volessi fare sport tu gli devi pagare questo lavoro che fa il pediatra per vabbè come se dovessi fare il portodarmi per esempio vale quanto il certificato del tuo figlio vale tanto quindi il medico ti può chiedere quello che vuole 50 euro 70 100 quello che vuole alcune ci sono perché perché è un'attività di bella scelta alcuni ordini collegi locali hanno indicato un prezzario di riferimento ma per legge essendo un'attività libero professionale il medico può decidere la cifra che vuole generalmente non può farlo gratis non potrebbe farlo gratis perché un suo collega potrebbe dirgli che è concorrenza sleale oppure perché l'agenzia delle entrate che traccia questo genere di certificati potrebbe dirgli ma come hai fatto mi risulta che hai fatto 200 certificati in un anno non mi torna rispetto alle pratiche che io quindi siamo in una soluzione che potrebbe essere risolta solo in un modo in solo in un modo che nell'accordo nazionale tra il servizio sanitario nazionale e questi signori sia indicata come prestazione inclusa nel contratto anche il rilascio dei certificati introduttivi di questo tipo lo scriviamo questo lo scriviamo nelle cose da portare a casa voglio dire almeno per i pediatri non dico l'accordo quello per i medici di famiglia ma almeno con i pediatri secondo me anche per i pediatri vi dico vi da una chicca però ci sono alcuni ospedali in Italia e questo e questo arriva da una storia che è anche bella ma non non abbiamo tempo di raccontarla ci sono alcuni ospedali in Italia tra cui i gazdini di Genova tra cui i gazdini di Genova proprio sulle questioni neonatologiche e sulle oncologie pediatriche c'è un accordo con IMS per cui la trasmissione dei dati il certificato introduttivo la trasmissione dei dati avvengono immediatamente nel momento in cui la innesca poi il cittadino vediamo come quindi c'è un una modalità di scambio che è pulita eccezionale trasparente che consente una valutazione più bella eccetera e che ovviamente ci auguriamo che si moltiplichi sul territorio nazionale buono 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 a sapersi questo attenzione ultimo ultimo gingillo perché spendere 50 euro è meglio tenersene in tasca per i pannolini del bambino o d'altro una sessione di terapia una sessione di terapia meglio parlare di una sessione di terapia allora la la ci sono anche alcuni pediatri neuropsichiatri ospedalieri che hanno la possibilità che hanno chiesto il PIN e quindi possono fare il certificato introduttivo quindi il tuo stesso neuropsichiatra che ti segue che ti vede pubblico che ha la conversione può fare il certificato introduttivo e se lo fa intramene nell'ambito ospedaliero non intramene in ambito ospedaliero è gratis perché fa parte dei LEA ok quindi chiedetelo prima buona sapesta il problema è che in quel momento non ce l'hai per la testa no assolutamente no però c'è capitato altre volte che appunto i genitori iniziano a chiedere ma il medico mi ha chiesto dei soldi per questa cosa ha diritto sì in questo caso tu mi dici ha diritto ha diritto ed è ma c'è una neuropsichiatria di un ospedale di ospedale civili di Breccia che segue mio figlio che segue mio figlio neuropsichiatra una visita la prossima settimana prima di andare a visita quando vai a visita chiedi di se ha la possibilità di fare il certificato introduttivo bene abbiamo il certificato introduttivo è finito nel gabbiotto del dell'Inps l'ha detto è finito dentro il gabbiotto dell'Inps dentro il gabbiotto dell'Inps rimane rimane depositato bisogna in questo punto a questo punto dargli fuoco innescarlo cioè trasformarlo in domanda trasformandolo in domanda vero e proprio perché vuole un atto medico il cittadino genitori in questo caso o lo fa da solo utilizzando mai Inps eccetera del figlio oppure va a un patronato sindacale fa la domanda di visita collega il certificato introduttivo e la domanda che è sempre dentro il gabbiotto di Inps telematico arriva all'Inps domanda e certificato introduttivo a quel punto Inps convoca a visita ultimamente non solo per il covid e non è necessariamente una cosa negativa Inps invece di convocare chiede l'invio della documentazione e fa la valutazione sugli atti generalmente è più pratico perché prima non porti un bambino in una sala d'attesa dove c'è di tutto un carico in meno e in termini di valutazione io ridico e ripeto la valutazione specialmente sui bambini contano di più gli atti che la visita oggettiva di 5 minuti anche perché io ho visto un po' di visite non mi è mai capitato che il medico legale facesse una visita effettiva al bambino quindi lo facesse per camminare o gli facesse dire delle parole per una questione di onestà professionale e anche per una questione di rispetto che fai hai una lesione hai una paralisi cerebro infantile in quel momento culo il bambino sta dormendo come un sasso ma non è è come fare le valutazioni su alcune forme di autismo è impensabile di fare una valutazione oggettiva portando un ragazzo con autismo all'interno di una sala d'attesa farlo attendere poi farlo entrare dove ci sono persone che lo vedo non ha capacità ha necessità di un'osservazione prolungata nel tempo una valutazione sia medico legale che medico sociale quindi conta tanto più la relazione del professionista moltissimo moltissimo chi la rilascia e chi la rilascia e come è compilata cioè non una riga ho effettuato questo 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 l'origine remota presumibile è questa ho fatto questi test di potenziali evocati e il risultato questa è la testistica anche usata che conta molto ti interrompo solo qui perché per quello che è il periodo di latenza da quando sottometti la domanda a quando elaborano la documentazione e ti restituiscono un certificato che vale sia all'inizio ma anche vale nel caso dei rinnovi in quella fase lì in quel limbo che cosa succede tu hai qualche diritto puoi richiamare qualche diritto la prima volta no la prima volta no finché non è riconosciuto uno status non inneschi neanche quello che ti dico adesso ok quindi vale molto quella testistica arriviamo a visita viene messo vengono messi due verbali uno di invalidità e uno di handicap quello di handicap è facile perché riconosce o handicap con connotazione di gravità o senza connotazione di gravità quello con connotazione di gravità ti dà diritto a permessi congedi eccetera a prolungare la maternità tra l'altro senza la riduzione del 30% quindi cose molto importanti che si usano subito che servono subito l'invalidità civile può riconoscere su minore due condizioni uno che è l'indenità di accompagnamento l'altro che è l'indenità di frequenza con tutta evidenza se ti riconosco l'indenità di frequenza non la vedi non la vedi perché perché l'indenità di frequenza subito l'indenità di frequenza presuppone che ci sia una frequenza almeno a un asilo nido una scuola materna o anche un centro di riabilitazione può essere una presa in carico e non c'è però deve essere prolungato nel tempo ci sono delle eccezioni non è che puoi andare una volta a settimana una volta a mese è quello è quello il vero problema diciamo il valore di queste due cose quanto valgono 250 euro l'uno 256 punto qualcosa l'indenità di frequenza 500 euro l'altra ok l'indenità di accompagnamento esiste una discriminante per cui arrivano due relazioni simili che può essere vero no perché su bambini così piccoli i test che si fanno le relazioni sono molto simili però a un bambino si decide di dare l'indenità di accompagnamento quindi ad una famiglia e un altro l'indenità di frequenza discriminante per il medico legale secondo te allora diciamo che in termini molto tra virgolette di gradazione l'indenità di frequenza in situazioni meno gravi meno gravi l'indenità di accompagnamento è un problema perché non esistono di fatto delle tabelle di percentuale di invalidità in cui io posso fare riferimento a una alla somma di una serie di condizioni mi danno 100 oltre 100 quindi vado a a riconoscere a riconoscere un'invalidità maggiore un'invalidità maggiore o minore o d'altro lì è molto connesso allo svolgimento degli atti quotidiani della vita e alle autonomie all'essere in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita tra l'altro è stato anche oggetto di uno scontro abbastanza serrato e subdolo in passato che fossero gli atti della vita strumentari o quelli semplicemente gli atti della vita mangiare è un atto della vita sapere cosa stai mangiando stai mangiando una lattina di coca cola intera è un atto strumentare invece fa molta differenza e fa molta differenza soprattutto sulle attività tutta la parte delle disabilità fisiche io però non ci ho dimenticato una cosa importante che in presenza di talvolta in presenza di paralisi cerebrali infantili lesioni perinatali o d'altro potrebbe esserci anche una severa compromissione degli altri due di due apparati che sono quello visivo e che sono quello visivo e lì è un casino perché perché è molto complesso stabilire la in tenerissima età la profondità della sordità ad esempio è un problema che ce l'abbiamo o fare un'analisi del campo visivo tutto quello che riguarda che non è un potenziale evocato quindi indipendente da me diventa 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 un problema per cui forse la sordità meno forse la sordità meno si riesce si riesce a individuare la cecità parziale o d'altro diventa più complessa manteniamo presente che se avessimo anche anche una disabilità plurima una situazione plurima cioè se siamo in grado di dimostrare che esiste anche una sordità una sordità sotto un certo livello di decibel eccetera eccetera o anche una cesità sotto un termine di acutezza visiva e campo visivo ma soprattutto acutezza visiva li potremmo innescare anche la richiesta di di valutazione di sordità civile o di cecità civile perché sono livelli che si sommano all'invalidità civile no e quindi diventa diventa importante perché in presenza di una cecità abbiamo un'indenità di accompagnamento che si somma a quella di invalidità civile ed è molto più alta perché sono quasi 900 euro e sono un'indenità di comunicazione per la sordità che sono atti 280 euro quindi può essere interessante però lì e tu me lo stai confermando è difficile avere una puntualità di diagnosi però c'è anche questo tanto che Carlo ti inserisco un altro elemento che è il fatto che rispetto ad altre disabilità legate al momento del neurosviluppo la paracerebrale infantile è sempre rivedibile per cui le nostre valutazioni sono rivedibili di anno in anno il che non vuol dire che la lesione guarisce questo lo sappiamo tutti però ci possono essere delle evoluzioni che ti faccio rispetto ad esempio una situazione simile magari un bambino con sindrome di down dove invece la rivedibilità sia soltanto ai 18 anni quindi come interpretare questa cosa no 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 cancella cancella questa cosa vai di tu la cosa giusta allora no no ai 18 anni una sindrome di down con indennità di accompagnamento perché gli viene riconosciuta di fatto in automatismo attualmente dall'impianto che c'è al diciottesimo anno di età un persona con sindrome di down non viene rivista gli viene riconosciuto nel caso delle pc si invece nel senso ogni anno il caso delle pc è innanzitutto quella parte che è notevole di discrezionalità tra riconosco nell'italia di accompagnamento il grave se lo riconoscono sostanzialmente sempre senza particolari difficoltà lo dico in termini di osservazione dopo verrà sicuramente fuori quello che mi contesta e mi dice no ma hanno riconosciuto no ma succede succede no ma perché essendo uno spettro quindi avendo dei tipi di disabilità che vanno da un'emiplegia più lieve fino a una tetraplegia giustamente ci sono dei vari gradi per quindi lo stesso tipo di difficoltà lo ha sia il genitore nel dire ma perché all'altro si e a me no ma lo ha anche il medico legale nella valutazione della diagnosi anche perché e qui e qui te lo voglio dire mi era venuto in mente quando su questa questione della discrezionalità sulla questione della revisione revisione nel tempo cioè io non me la sento di dire sono cattivi brutti e sporchi quelli di IMS non vogliamo che ci dica quello che è giusto secondo te ecco no no che che vedono un ragazzino a tre anni e dicono vediamolo a cinque a sei perché qui c'è una famiglia che sta facendo degli interventi degli interventi anche riabilitativi che c'è c'è un quadro magari gli posso confermare definitivamente la cosa eccetera quindi la tendenza più è tenera l'età almeno come non sia veramente una situazione assolutamente drammatica incontestabile più è tenera l'età più è probabile che ci sia una revisione nel tempo quando questa diventa una volta all'anno per diciotto anni io comincia a puzzarmi la cosa perché cominciano ad esserci un po' di elementi ad esempio ho un ragazzino un paraggi cerebrale infantile con una serie di compromissioni di apparati eccetera che gli viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento oggi dico aspetta andiamo a vedere se questo quadro diagnostico 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 rientra in un decreto che è stato fatto nel 2007 che mi elenca una serie di gruppi di patologie per le quali non deve essere prevista la revisione tu mi dici attento Carlo però perché all'interno della PCI c'è una graduazione e un ventaglio estremamente ampio di limitazione di funzioni e dato sì è vero ok però c'è anche un altro aspetto e qui vado più sull'operativo anche su un'idea di possibile azione pratica eccetera mi metto dalla parte delle commissioni che devono valutare vedono una buona certificazione di un pubblico o di un privato convenzionato non è vera altra fake che valgono solo le documentazioni dell'ente dell'ospedale pubblico perché se valessero solo le certificazioni degli ospedali pubblici ad esempio nel Lazio saremo scoperti del 75% ma anche in Lombardia non è male come termini di convenzionamento e di unità specialistici è chiaro che se mi arriva una valutazione di un oncologo dell'oncologico di Milano permetti che non mi torna a noi o rilasciato da un convenzionato per me è estremamente valido un polo di eccellenza privato convenzionato pubblico come medico lo conosco lo so il vanguardo immetto la sostanza per cui ci dici ma la revisione conta in questa fase che è la cosa che noi tutti ci auguriamo il fatto che sia una lesione così precoce che possa avere delle prognosi molto positive ovviamente ci sono dei casi delle situazioni assolutamente limiti che dice guarda la stessa volta che mi riconosci la seconda la terza la quarta volta che mi riconosci un'indenità di accompagnamento in presenza di una lesione che è definitiva e che può avere dei margini di riabilitazione di miglioramento ma lì stiamo e allora a quel punto o si chiede un riesame di autotutera e dici o mi togli quel limite temporale perché la quarta volta o ti faccio un ricorso allora le valutazioni le fa poi c'è una questione complessiva IMS svolge una funzione che è sempre più importante in Italia IMS che cosa fa prendiamo la Lombardia e la Lombardia ci sono delle commissioni di primo accertamento che sono pubbliche presso le A.V si chiamano A.S.T. in Lombardia aspetta perché siamo 21 sigle da ricordare si chiamano A.S. lì esce il verbale il primo verbale IMS fa la verifica e lui lo approva e se lo arriva va nel sistema nell'A.S.io non c'è più la competenza nelle A.S. è stato trasferito tutto all'IMS per cui la prima valutazione e anche la verifica la fa l'IMS abbreviando i tempi e i costi però al genitore gli arriva una lettera gli arriva a casa gli arrivano due lettere una per la certa non la trova nella cassetta nella la cassetta online comunicazioni con due verbali qualche volta arrivano assieme ma è raro in alcuni casi persone spaventate dicono mi hanno mandato solo quello di handicap ma l'invalidità non mi è arrivato niente quindi non me l'hanno riconosciuto tranquilli perché arrivano in due tempi diversi e poi a volte è capitato anche questo sono disallineati come scadenza cosa che non agevola la vita poi per la revisione no? va bene comunque questo è già più raro sono in due versioni uno con gli omissi e uno no uno da usare per le questioni personali e uno da tenere conservare perché hai tutto il quadro completo però io voglio tornare a questa cosa dici che cosa ci facciamo con queste due lettere a cosa ci servono? fammi finire la questione della valutazione perché poi ci arrivo ti faccio solo un flash IMS svolge la maggioranza delle visite di revisione non torni all'AS ti chiamano in IMS a fare la revisione dal 2014 IMS fa tutte le verifiche per legge l'ultima parola aspetta a IMS i controlli a campione li fa IMS se devi fare ricorso lo fai contro IMS le indicazioni cosa c'è di buono? che le indicazioni di comportamento alle alle proprie commissioni anche metodologiche le elabora IMS le elabora la commissione medica superiore il centro medico legale di IMS che sta ora a Roma in questi anni io ti manderò all'elenco c'è una pagina molto nascosta che non conosciamo in molti di IMS ci sono delle linee guida per l'analisi ad esempio per la valutazione ad esempio dell'esperto di multiple delle distrofinopatie su una questione di distrofinopatie sono abbastanza fiero perché ci ho collaborato conoscendo anche i referenti che sono molto tecnicamente molto preparati non c'è non mi risulta c'è su altre affezioni non te le sto rincare tutte la cecità eccetera perché ognuna ha le sue cardiopatie l'epilessia c'è? perché l'epilessia perché l'epilessia è un'altra delle comorbidità che è spesso associata alla PC mi pare di sì che ci sia sull'epilessia sull'autismo c'è l'autismo è il risultato di una azione perché l'autismo è complesso da verificare perché abbiamo una gamma paradossalmente tutto ciò che è genetico di origini genetiche dal punto di vista del riconoscimento dei diritti sono molto più avanti rispetto a una disabilità ma lì sai quella non è neanche una questione di diritti è una questione di soft law di indicazione alla commissione e anche agli esperti gli esperti da quest'altra parte di come fare una valutazione che sia il meno pesante possibile il più trasparente possibile e usando gli strumenti possibili ad esempio sì sì però per dire che magari non è ancora mai stato fatto questo lavoro di sistematizzazione di organizzazione informazione e di scambio sulle pc non c'è come non c'è un codice per l'essenzione sulle pc dal punto di vista sanitario ancora ancora differente ma una delle operazioni sarebbe quella di tentare di richiedere a IMS anche iniziando per le vie informali se volete lo si può fare di tentare un'elaborazione di linee guida su come si valuta una pc che non deve essere una un manuale scientifico ce ne sono alcune a me l'hanno detto guardate i nostri medici hanno di tutto dentro gli arriva uno con il problema urologico deve essere abbastanza sufficientemente asciutta per dire c'hai il pc ok verifica che ci sia questo 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 ma noi abbiamo già tante scale che ci aiutano anche dal punto di 5 categorie a quel punto se la commissione sa questa cosa e c'è data un'evidenza delle linee guida sulle pc tu come genitore come organizzazione il reparto di neuropsichiatria sa già come impostare la relazione e quali cose portare sicuramente perché siano valutate non si tratta di raccontare bugie si tratta di dire serve questa scala anche lo stesso linguaggio ecco può essere può essere una cosa che è molto semplice ma ti sono arrivati finalmente i due cartoni c'era sempre una questione dei tempi in alcuni casi i tempi in alcune aree i tempi sono abbastanza sorprendentemente brevi anche in termini di convocazioni in altre aree del paese o in altre occasioni operate ti trovi davanti il certificato di invalidità civile il certificato di invalidità civile ha ha due possibilità ha tre possibilità non è invalido è minore invalido con diritto all'indennità di frequenza è minore invalido con diritto all'indennità d'accompagnamento in quel caso è come se l'invalidità fosse equivalente al 100% fino a che è minore fino a che non raggiungeranno la maggiungere totale allora il 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 punto il punto e la situazione com'è a quel punto se si tratta dell'identità d'accompagnamento arriva un'ulteriore comunicazione talvolta è compilata anche prima che richiede un conto corrente su cui versare quella quella quei quattrini versare i quattrini e una dichiarazione una dichiarazione che poi andrà fatta anche l'anno successivo di che non esiste un ricovero a carico del dello Stato in pratica il bambino non è stato messo in un istituto questo è il famoso modulo che arrivava fino a un po' di tempo fa adesso visto che non arriva più i cric come si chiama il modulo i cric arriva non arriva non si sa uno se lo trova in casella hanno fatto un casino lasciamo perdere quello che poi arriva a compattare degli anni se arriva arriva se non lo compili te lo sollecitano non ti sospendono niente non succede niente di niente di grave dici invece la soluzione del conto corrente no? perché qui si apre lo scenare ci vuole il tutore la delega il conto corrente il libretto postale qual è la soluzione più pratica ad oggi? aprire un conto corrente minore in una banda con un vincolo pupillare da parte del genitore volendo per riscuotere per riscuotere i quattrini tra l'altro c'erano stati c'erano una serie di questioni connesse alla richiesta giudice tutelare di poter riscuotere i quattrini e i vincoli alcuni tribunali quello di Milano è stato uno dei primi a cancelleria ha detto guardate fatevi questo foglio qua è un foglio che è ridicolo nome e cognome è fatta via fax e vai e ti danno l'autorizzazione comunque conviene conviene l'Inps ti richiede che il conto abbia l'intestazione del del minore in questo caso ma anche se fosse maggiorenne del maggiorenne è preferibilmente non contestato preferibilmente non contestato domanda sul fatto che alcuni genitori ce lo chiedono ce lo chiedono anche in un'altra serie di situazioni il caso dei genitori separati si identifica un tutore principale come funziona fa un passaggio da giudice in cancelleria da giudice lo si fa cioè tu stai parlando di affido condiviso non ho non ho idea nel senso si possono creare se è un affido condiviso dovrebbe essere una fattispecie che è già prevista un raccordo di separazione se è un affido alla madre la madre va in posto e fa sta roba e la fa e la fa dopodiché tu mi dici ha col certificato di handicap invece grave quello consente di ottenere permessi lavorativi il prolungamento della della del congedo di maternità più avanti la richiesta del congedo diennale ammette tutta quella serie di agevolazioni lavorative per i quali non basta l'indelità di accompagnamento non serve l'indelità di accompagnamento serve il certificato di handicap con notazione di gravità per esempio il rifiuto di trasferimento di sede quindi questo certificato tu parli è quello che fa riferimento alla famosa legge 104 quindi la 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 quindi permesso l'articolo 3 comma 3 permesso il congedo a prosecuzione del congedo di maternità eccetera e poi in questione dei congedi parentali supponiamo che il bambino abbia già tre anni voglio usare i permessi lavorativi a quel punto devo presentare un'altra richiesta e devo presentarla al mio datore di lavoro pubblico paradossalmente più semplice perché presento la domanda alla mia amministrazione presentando il certificato l'amministrazione dalla vallo perché paga direttamente lei e dopo di che si articola la fruizione dei permessi lavorativi tra l'altro fino a tre anni si può usare anche le due ore di permesso fino a il permesso straordinario invece fino a che età è possibile il congedo retribuito di due anni è retribuito e valido tutta la vita finché tu sei cargiver anche di altra persona quindi non solo del minore magari di un adulto anche di un adulto anche di un adulto tenere presente che il congedo retribuito se hai tre disabili in casa è solo uno solo due due anni dura solo due anni sul privato invece va presentata una domanda contestualmente un modulo unico va presentata contestualmente la domanda al datore di lavoro e all'Inps spetterebbe al datore di lavoro dire ok te li concedo te li pago ma che cosa fa giustamente anche il datore di lavoro dice io aspetto l'avallo di Inps di Inps e quindi Inps dice sì ok per me rientra paga che poi ti conguaglio e paga no no non è che rimborsa è proprio un conguaglio ogni azienda privata a fine mese deve cacciare a Inps i versamenti i contributi tutto quello che ci si prendono dalla retribuzione e lo versano lo versano sul sul sulla sulla cassa dell'Inps ogni datore di lavoro ha una quota e supponiamo che debba versare 100 il tuo permesso lavorativo costa 20 versa 80 fine principio del conguaglio tanto quindi non è che deve aspettare mesi anni o rimanga esposto questa è la prassi normale la brutta situazione in questo paese è ancora nonostante sia stato inserito qualcosina nelle norme vigenti sono le donne con partita IVA o o o imprenditori o lavoratori autonomi sai e oggi uno pensa lavoratore autonomo e ma siamo stiamo veramente diventando il popolo del partita IVA la partita IVA quando ti fermi ti fermi nessuno ti paga se salti un'ora di lavoro è un'ora di lavoro di meno che fatturi ed altro ed è uno degli aspetti che maggiormente si riversano sulle donne perché sempre di più hanno c'è ricorso anche una partita IVA o tentare di avere un'attività per proprio conto quelle sono veramente scoperte questo è molto evidente ma perché appunto l'hai detto anche tu il caso in cui sia poi la donna caregiver occuparsi a tempo pieno della persona del minore con disabilità è abbastanza realistico altri casi nel privato invece è quando la donna richiede o appunto i permessi o richiede magari un'agevolazione in termini dell'orario di lavoro come il part time quindi capita spesso che il datore di lavoro dica ma io invece no il part time non te lo do nel senso non ti vengo incontro da questo punto di vista e quindi è lì un altro tipo di situazione che fa sì che poi la donna nel tempo lasci anche l'attività principale lavorativa noi abbiamo raccolto un bel po' un bel po' di dati che testimoniano con tutta evidenza questo questo fenomeno il il fenomeno del cargiving familiare non lo sto parlando di verrà sto parlando delle nostre cose il cargiving familiare è un fenomeno prettamente femminile prettamente femminile prevalentemente femminile che non comporta noi pensiamo che il part time sia una 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 conquista no insomma in maniera che diventi obbligatoria la concessione del part time sia ok però il part time ha una particolarità che lavori si metta tempo ma guadagni anche la metà ai minori enteroiti molto spesso abbiamo donne che razionalmente per disperazione dicono guarda io se devo pagare una babysitter specializzata eccetera per altre tre ore per altre quattro ore e per poter intanto lavorare faccio part time mi rispondo in quei quattrini e alla fine vado pari e patta ma pari e patta nei conti di fine mese ma non nei conti di una vita perché non hai versamenti contributi su quello perché non hai quegli aspetti non hai sul lungo periodo diventa uno svantaggio e si paga in termini di impoverimento fa vent'anni trent'anni non voglio creare spaventare nessuno indicare una direzione verso cui che magari riusciresti a combinarlo con quello che si chiama accomodamento ragionevole ed è l'accomodamento ragionevole che l'ha predisto l'Unione Europea nel 2000 nella direttiva 78 no l'azienda se non è un onere sproporzionato oneroso eccessivamente oneroso deve concedere anche questi termini di flessibilità il covid ci ha insegnato qualcosa in termini di lavoro agile dobbrebbe essere usata questa esperienza in maniera intelligente per ripensarla anche in termini di flessibilità ma poi il part time ha un altro effetto inutile che lo sai benissimo lo sanno benissimo altre donne che ci stanno ricercando il part time è questa situazione e le tue possibilità di avanzamento in carriera certo quello finisce poi tutto lì nella gerarchia aziendale chiedi il part time perché sei una persona che ha voglia di lavorare poco e questo è il luogo comune che alleggia sopra queste figure poi ci sono possono esserti anche degli aspetti prazzi per carità sì no su questo però per tornare all'aspetto di appunto tutto quello che si portano dietro queste due certificazioni di status che arrivano alla famiglia c'è un tema legato anche al passauto questa agevolazione per il passauto anche lì si aprono scenari diversificati a livello italiano da una parte devi andare dai vigili da una parte se non hai questa scritta all'interno della certificazione di handicap con scritto ridotta mobilità non hai diritto a questo passauto quindi tue esperienze su questo nel caso di un passauto per il genitore del minore che ha la certificazione poi di invalidità e di handicap il passauto nasce negli anni 70 negli anni 70 la traccia esatta il riferimento esatto è dentro il codice della strada e il regolamento del codice della strada e dall'anno si scatta il regolamento del codice della strada mi dice che il contrassegno disabili ha cambiato definizione va rilasciato a chi ha effettiva ridotta capacità di deambulazione punto non mi dice altro cioè non mi dice se una cardiopatia o una pneumopatia grave o una grave limitazione è una valutazione medica di dire questo ha una grave limitazione capacità di deambulazione quindi è molto è ha possibilità di interpretazione ma non così ampie poi c'è un'altra norma che a parte ha detto oltre a quelli ai ciechi i ciechi sono facili da individuare nel loro verbale ciechi parziali e ciechi totale restiamo a questo grave no effettiva capacità di deambulazione sensibilmente ridotta che tradotto uno non ci pensa ma vuol dire che se hai un arrettato gli do il contrassegno chiaro e no non si muove non esce perché gli devo dare il contrassegno in quella razio tentiamo di capire la razio interna era questo che volevamo capire noi allora molto spesso inizia si inizia ad eccepire ad osservare ad esempio un autistico mi dice io non ho mio figlio non ha problemi di ambulare anzi quando apro la po come apro la porta scappa la porta non lo trovo più cioè schizza dall'altra parte quindi è iniziato a porsi questo dibattito che non ha una chiarezza non ha avuto una chiarificazione può essere solo normativa o di indirizzo rispetto ai pass auto ai contrassegni ai contrassegni disabili come si ottiene? si ottiene in due modalità quella antica che era definita nel regolamento del codice della strada vado al servizio di medicina regale della mia ASL e mi faccio fare quella dichiarazione Mario Rossi ha un'effettiva capacità ridotta ai sensi dell'articolo 381 del codice della strada e vado dopo di che vado da chi è competente a rilasciare il contrassegno e competente a rilasciare il contrassegno per lei è il comune di residenza il comune di residenza abitualmente affida questo compito che si occupa del sedime stradale e dei parcheggi che sono i vigili del fuoco e si i vigili urbani sono preso con un'altra analisi su disabili e sicurezza quindi vie di fughe sistemi di tutela di disabili ovviamente la polizia locale i vigili urbani i pizzardoni a Roma e con tutti quei nomi va lì e viene rilasciato il contrassegno questa è la prima linea la seconda linea semplificata era ci si è detto ma perché uno che è già stato visitato da una commissione pubblica in cui è presente un medico legale quella commissione pubblica non può dirmi se ha diritto o no del contrassegno e per cui i verbali dal 2012 contengono anche quelle indicazioni oltre a altre indicazioni fiscali che lasciamo stare e quindi c'è scritto deambulazione ridotta aperta parentesi articolo 381 regolamento del codice della strada quindi mi fa il riferimento esattamente a quello quindi la logica della norma era visto che vai a farti verificare visto che c'è questo approfittiamo ti facciamo questa cosa così eviti di passare chi non ha quella voce all'interno del contrassegno il contrassegno non lo ottiene punto può andare a piangere il nostro goto dai vigili ma non lo ottiene generalmente e qui devo essere onesto ma anche dire dire che si basa su una osservazione generale dei verbali che arrivano generalmente a bambini in tenerissima età quel comma io lo vedo molto raramente capisco l'utilità che potrebbe esserci che potrebbe avere però la riflessione è da parte delle commissioni brutale se volete secca eccetera dice se hai un bambino di un anno due anni tre anni devi mettere nel passezzino esattamente in realtà Carlo se ci pensi è il momento in cui la famiglia ha maggiore necessità di quel contrassegno è il momento in cui la famiglia esce magari tutti i giorni per andare a fare terapie riabilitative privato pubblico in posti dove non ci sono parcheggi con l'impostazione della norma così com'è il bambino certo non cammina ma non camminerebbe neanche un altro bambino sviluppo tipico ecco no allora io lo sto giustificando no 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 ti dico il razzio con quella razio con quella razio rispetto a questa esigenza che è verissima che è verissima è palpabile è vissuta è vita vissuta non ne usciamo con queste impostazioni di norma non ne usciamo quindi anche lì andrebbe cambiata la definizione andrebbe modificata una norma andrebbe modificata ad esempio è stato nell'ultima legge di stabilità di bilancio 2020 per il 2021 è stato previsto un fondo tra i tanti previsti per prevedere il parcheggio gratuito per consentire ai comuni che non l'hanno ancora fatto non è un gran che come testo di legge a molti bacchi di realizzare parcheggi per gratuiti non quelli su linea blu per titolari di contrassegni e donne in stato di gravidanza sui contrassegni è facile i contrassegni è facile ci sono i contrassegni ci sono le donne in stato di gravidanza perché è giù pubblico o questa è il secondo mese non si vede niente non è visibile oppure chi mi dice che questa auto dovrò inventarmi qualcosa per perché sia un certificato che un contrassegno che ha invece dell'omino con la carrozzina la donna con il pagione come fa l'ikea nei parcheggi dell'ikea esattamente è quello il principio ikea o altri o altri su questo Carlo e poi ci avviamo alla chiusura perché abbiamo parlato solo della parte di età prescolare quindi come avevi previsto tu abbiamo bisogno di altri incontri cioè facciamo un focus su cosa mi succede all'inizio e poi cosa mi succede nelle varie fasi un'ultima domanda sulla certificazione di status tu che cosa fai poi vai in giro per 18 anni della tua vita come caregiver con queste due letterine sgualcite nel tempo o anche con il pass perché poi spesso anche quando vai all'estero tanti usano il pass come riconoscimento del pass va rinnovato ogni cinque anni sì però può essere un'altra cosa che ti dà uno status esiste un cartellino un qualcosa come esiste per ad esempio per alcuni tipi di patologie che ti dà un'esenzione dal punto di vista del ticket sanitario che ti dà una certificazione un'attestazione di status di fronte alle autorità esiste un tagliando pass allora per tutto il mondo IMS cioè per tutte le relazioni con il mondo IMS sei codificata il tuo figlio è codificato dentro al tutto il suo diciamo fascicolo a me piacerebbero molte altre cose mi piacerebbe se fosse una correlazione molto più forte col fascicolo sanitario che il fascicolo sanitario esistesse davvero in tutta Italia che gli accertamenti potessero di valutazione di status potessero attingere direttamente sul fascicolo sanitario in modo tale di fare con due click una richiesta anche con meno interpretazioni mi pensavano moltissime cose ma anche la questione del fascicolo sanitario mettiamoci un velo piuttoso perché poi l'Italia è lunghissima poi ci sono alcuni fantasiosi di alcune regioni che fanno che delle cose buone ma che non sono interoperabili così allora quindi tutto il mondo IMS che cosa c'è però col mondo IMS che faccio mi porto la lettera io in giro per dire se mi chiedono in un ufficio un pubblico che cosa posso testimoniare allora ripeto tutto il mondo IMS vuol dire anche ISEE vuol dire anche tutta quella parte nei rapporti con i comuni servizi almeno una volta devono acquisire la documentazione quindi o la consegni o tieni presente che sulla invalidità e sull'handicap tu puoi anche autocertificare di essere in possesso di verbale di handicap rilasciato da il giorno tale in data tal questa cosa dell'autocertificazione a noi non era mai stata nominata se ci pensi fai prima a scriverti l'autocertificazione che sei in possesso del verbale rilasciato il giorno tale con il numero di protocollo confermato eccetera o a buttare il foglio dentro una fotografiatrice allora ti dico l'altra cosa che c'è è la generazione del QR code su cui io ho scritto che l'ha generato IMS e IMS sui verbali più recenti con il QR code però attenzione perché ha dei pro e di incontro se tu a questo incontro vuoi collegare un articolo di commento che ho fatto sul QR code che è cioè mi lascia rispetto alle potenzialità che potrebbe avere è è superiore è dedicato l'altra questione su sconti eccetera è una cosa che ha concordata con l'Europa ma non ancora dettagliata in Italia che è la disability card che però non si parla con il QR code ancora nella disability card dovrebbero essere indicate due o tre situazioni quattro cinque profili che ad esempio il cinema X che riconosce il patinodromo X che riconosce un'agevolazione per persone con disabilità accetta quella tessera non vuol dire che vai con la tessera e poi entrare gratis vuol dire che se il commerciante ha deciso che e questo dovrebbe essere siccome è europea è un progetto europeo però però è appunto è in alto mare o possiamo sperarci prima che diventino allora è già finanziata ci sono già i soldi per realizzarla ci sa già chi potrebbe realizzarla ma siamo ancora là però c'è consenso comunque su questo no? c'è consenso sulla necessità fondamento normativo c'è fondamento normativo non è che c'è magari qualcuno che dice no non voglio essere ghettizzato con con la card o non ah no puoi fare a meno di usarlo puoi fare puoi fare a meno di usarlo a parte che con il futuro non so quando non so come con le carte di identità con chip ed altro potrebbero essere contenuti in codici specifici ma mica la diagnosi mica la diagnosi semplicemente la 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 un codice tre zetta che vuol dire c'è c'è un'invalidità totale certificata basta cioè stiamo veramente ragionando con una disponibilità tecnologica spaventosa perché viaggiamo talvolta con degli smartphone da 800 euro da 1000 euro che potrebbero veramente identificare tutto quanto anche lì ci sono dei passaggi avanti sono estremamente avanti noi anche per continuare a pensare a un pass a un pass di carta stampato colorato eccetera che non abbia un cito dentro nel 2021 che mi consenta di dire mi consente di dire al vigile che passa guarda che questo chip questo questo coso è è di uno che è morto due mesi fa metti la velocità di rilascio di controllo di monitoraggio perché io sono abituato anche a fare con persone per bene ma li vedo anche li vedo anche io i furbi come li vedete voi che hanno tanto di contrasto che poi il problema che penalizza tutti perché poi come vedo agevolazioni fiscali gente che fa i salti mortali per avere agevolazioni fiscali sui veicoli per la nonna che non vede mai usando il certificato di handicap della nonna che non vede mai allora vero dopo vengono a piangere dicendo nonna è morta ok mi dispiace condognante sì ma il veicolo che ho pagato io è intestato a lei perché è intestato a lei è perché per avere il 4% di IVA e dice e mo e mo finisce in asse ereditario e lo spattisci con i tuoi fratelli perché vai in asse ereditario patrimonio è intestato a lei risulta intestato a lei e ha ottenuto l'IVA forse devo dire che sul caso dei caregiver dei minori sarà che hanno una vita veramente piena impegnata per cui difficilmente si trovano situazioni non in linea con la norma in senso quello che c'è invece è la non conoscenza dei diritti che si possono richiedere cioè arrivano in fase di diagnosi a noi dei genitori che chiedono ma la scuola come funziona al lavoro posso tornare quindi sono veramente domande ancora basiche però su questo Carlo oggi ti abbiamo tenuto tantissimo e abbiamo parlato solo dell'inizio quindi ci dobbiamo riprendere un appuntamento se tu sei d'accordo dobbiamo parlare vediamo 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 anche le 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 azioni oddio sull'aspetto sull'aspetto scuola realmente di scuola credo ci siano persone anche più più preparate più brillate di me ma sono ovviamente disponibili per altri approfondimenti la parte fiscale c'è uno spasso ti avviso perché sulla parte fiscale poi ci sono alcune spese che diventano che passano da detraibili a deducibili proprio in funzione di quello status questo è un tema che può essere interessante perché è meglio tenere anche 50 euro in più anche 100 si è quello si considera un po' una parte che si è già spesa quindi non si fa caso a quello che invece possono essere le detrazioni possono esserci delle detrazioni che sono un po' superiori che possono essere interessanti bisogna stare attenti ad esempio ad alcune incapienze non ho reddito il per sufficienti per allora come faccio altri temi oltre questo che ci sollecitano beh va bene parte il tema caregivers in generale l'abbiamo accennato oggi il tema amministratore di sostegno il tema che arriverà dopo di noi e c'è un tema che invece è più borderline sul tema medico sono le cure all'estero la rimborsabilità delle cure all'estero anche qui si apre un mondo un po' poco limpido diciamo perché ci sono delle situazioni soprattutto sulla paraescere infantile in cui ci sono delle terapie assolutamente inventate non validate che però richiamano buona parte dei genitori che abbiamo che abbiamo iniziato a vedere per lo meno che io ricordo almeno dagli anni 90 che prima riguardava i paraplegici che andavano in Russia per ritornare a camminare ancora l'estero i trappianti i trappianti di mioblasti fatti dal cinese e poi e poi altri dibattiti su altre terapie su cui non so io non lo so che sia validazione completa che alcune regioni hanno addirittura finanziato e altre regioni hanno detto no che è sta roba non è neanche una terapia non ha nessuna validazione e quindi crea conflitto eccetera sono meccanismi noti anche in altre in altre in altre situazioni anche alcuni viaggi della speranza talvolta su cui si raccolgono fondi per andare a effettuare cose alternative quando magari abbiamo delle eccellenze in Italia esatto questo è un tema attualissimo questo è un tema attualissimo anche su una serie di malattie neurodegenerative e approvazione di alcuni farmaci anche in Italia Carlo prima di lasciarci dici dove ti troviamo tu sei molto responsivo diciamo sui canali social c'è un gruppo oggi che stai gestendo in prima persona per cui si chiama esplicando si trovate sicuramente la perché l'area che è basico più volentieri poi sono in una fase di ricostituzione da community manager nella grande pazienza nel rispondere con una proprietà appunto di informazione di linguaggio e di dettagli anche utili alle famiglie tentiamo di fare possibile per il resto sono in una fase di ristrutturazione sia professionale che personale e per cui spero di essere assieme a un gruppo di persone con cui il lavoro è ancora più stabilizzato nel corso del tempo però adesso mi trovate la sua esplicando va bene tu tienici comunque informati e poi sicuramente rifaremo un altro approfondimento aspettiamo i feedback da questo e poi ci risentiamo quando vuoi io da voi aspetto il 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 link per poterlo pubblicizzare assolutamente sì assolutamente davi una mano in questa pubblicizzazione anche per un po' di promozione volentieri volentieri perché poi veramente ti dico è un argomento su cui c'è fame di informazioni il peccato che queste informazioni sono abbastanza volatili nel tempo che magari domani si sveglia qualcuno e che dice no mi sono sbagliato a scuola non dovevano andarci i figli dei medici e quindi ricambia tutto tutto lo scenario però grazie mille intanto a presto ciao grazie saluto a tutti grazie a tutti